Si è aperta ieri l'era Ranuccio con l'ufficialità del primo consiglio comunale in una sala consigliare gremitissima per la prima, l'emozione degli esordienti, la gran parte di essi infatti sono alla prima esperienza politica e è stata rotta dall'inno nazionale lanciato dal consigliere anziano Lillo Galletta che in veste di presidente ha esordito con un breve saluto a tutti i presenti. Prima di passare ai sette punti dell'ordine del giorno battute al vetriolo tra il candidato al sindaco Francesco Trentinella e il sindaco Giuseppe Ranuccio. Il primo nel prendere la parola ha accusato Ranuccio di essere vile e codardo perché nell'ultimo comizio prima del ballottaggio, sapendo che non potevo replicare, osserva Trentinella, mi ha attaccato pesantemente, una critica che a Ranuccio non è proprio piaciuta, scorie da campagna elettorale respinte dal primo cittadino. Evidentemente, sostiene il sindaco, a qualcuno non è ancora andata giù la sconfitta elettorale, mi sono limitato a fare politica alla luce del sole in piazza, mentre qualcuno le critiche li faceva dentro le case quando si andava a cercare i voti. Prima di passare all'elezione del presidente del consiglio comunale sono arrivati gli interventi di Andrea Mauro e Giuseppe Magazzù per la maggioranza, il lungo intervento del consigliere di minoranza Antonio Randazzo, il saluto di Mimma Di Certo, l'altra candidata a sindaco, e gli interventi dei candidati a sindaci Silvana Misale e Pino Ippolito. Siamo una minoranza, dice l'ingegnere, distinta dalle altre. Auguro al sindaco, in maniera interessata, di lavorare per l'esclusivo interesse di Palmi. Non avremo pregiudizi, valuteremo i suoi atti, vogliamo vedere quanto sarà incisivo. Il consigliere Ippolito ha confermato il ricorso al Tar sull'esito del voto del primo turno. Il 26enne Salvatore Celi è stato poi eletto presidente all'unanimità e lo stesso è toccato per l'elezione del vice, l'avvocato Misale, eletta sempre all'unanimità. Successivamente hanno fatto seguito le surroghe dei due consiglieri chiamati in giunta, Sina Bruno, vice sindaco, e Alessia Venturoso, sostituita da Chiara Surace e Denise Iacovo. Poi il discorso programmatico del sindaco. Ho il dovere e l'onore di rappresentare la città, dice Ranuccio. Ci aspetta tanto lavoro, ma questo lo sappiamo. Palmi deve tornare ad alzare la voce e a riconquistare quel ruolo politico di preminenza che ha avuto in passato. Non è facile risolvere tutti i problemi della città, continua ancora il sindaco. Per questo mi appello all'Aula per un proficuo lavoro di collaborazione. È il momento di dimostrare da parte di tutti l'amore verso la città, che abbiamo sbandierato in campagna elettorale. Grazie. 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 Grazie.